benvenuti se siete qui è perché siete delle persone curiose e questo mi fa molto piacere perché già andiamo d'accordo mi chiamo manuela ronchi e sono tendenzialmente un'imprenditrice molto curiosa e che nella mia vita ho sempre cercato e ho il privilegio di fare quello che amo di più al mondo che è il mio lavoro e fare comunicazione ho creato 30 anni fa action agency che è una società diversa amiamo dire che migliori no ma migliori di chi siamo tutti i migliori siamo una trentina di ragazzi perché mi reputa una ragazza anch'io che abbiamo tutti in comune la passione di continuare e non smettere mai di sognare di fare il lavoro più bello del mondo ma soprattutto di farlo con passione la passione ci porta a creare uno stile con cui facciamo comunicazione per cui io tendenzialmente non amo catalogare quello che faccio spesso mi dicono cosa fai io dico sempre non siamo un'agenzia di eventi non siamo un'agenzia di comunicazione non siamo un'agenzia di pubblicità non siamo un'agenzia di ufficio stampa e quindi cosa siamo siamo una società che tendenzialmente fa brand positioning comunichiamo dalle valvole termostatiche alle banche alle assicurazioni ai brand di lusso perché quello che ci contraddistingue ci fa essere diversi dagli altri e lo stile con cui facciamo comunicazione lo stile parte dal fatto che rispettiamo chi ci ascolta e facciamo di tutto per far sì che qualsiasi contenuto che andiamo a produrre possa arrivare al cuore e alla mente delle persone tendenzialmente quando in agenzia arriva una richiesta di un brief piuttosto che di una una nostra consulenza abbiamo un gruppo creativo che presiedo io perché sono tendenzialmente una creativa e amo essere una creativa il gruppo di lavoro elabora l'idea creativa sempre customizzata sul cliente e in 30 anni non abbiamo mai replicato un format anche per categorie mercologiche diverse l'idea creativa viene elaborata viene visualizzata quindi all'interno abbiamo tutta la parte di produzione grafica audio video amiamo far vivere le idee ai nostri clienti stiamo investendo tra l'altro con una società nuova la action media ltd che abbiamo aperto a londra sui nuovi linguaggi di comunicazione sul voice first sul podcast cerchiamo sempre di essere anche in questo innovatori e poi quando l'idea creativa viene elaborata e accettata dal cliente abbiamo tutto il circolo produttivo interno quindi abbiamo l'ufficio che noi chiamiamo di news positioning che ci permette di fare media relation abbiamo all'interno un'agenzia viaggi per la parte logistica abbiamo un reparto di produzione e tutto quello che ovviamente gira attorno a livello di professionisti poi essendo molto curiosi facendo molto scouting e mi riconosco un po' la capacità di scoprire nuovi talenti per non essere non replicare sempre le stesse formule andiamo alla ricerca di creatività da chi monta i video a chi fa la regia agli autori a idee fondato la società con raffaele tovazzi che è un filosofo esecutivo che ci aiuta a pensare perché con il linguaggio e con la produzione contenuti che gli eventi diventano dei propri media ed è questa la nostra caratteristica speriamo di incontrarvi presto